Manuel era cresciuto in una casa dove libri di ingegneria e modellini di punti la facevano da padroni. Ogni serata la cena si trasformava in un brainstorming su problemi matematici e progetti futuristici, ma il piccolo Manuel aveva occhi solo per le storie che raccontavano di avventure lontane e di eroi coraggiosi. Un giorno mentre il sole tramontava tingendo di rosso le montagne visibili dalla finestra del soggiorno, Manuel all'età di otto anni si rivolse al padre con una domanda che lo aveva tenuto sveglio la notte precedente. Padre, perché dobbiamo sempre impegnarci così tanto per fare soldi? Nei miei racconti di eroi non ci sono problemi di soldi, le persone sembrano felici anche senza. Il padre sorpreso da una domanda così abbassò il libro dei resoconti aziendali di quel periodo. Ascoltami bene, vedi dove viviamo, vedi ciò che indossiamo e vedi ciò che mangiamo, sono tutte cose prese con i soldi. Infatti se non avessimo i soldi tu non avresti queste cose. La risposta del padre fu secca e diretta, come se volesse sbrigarsi e in effetti era così. I genitori non erano molto presenti, Manuel doveva affrontare tante cose da solo o con la tata. Una donna che invece ha cercato di insegnargli tante cose diverse dal mondo del denaro in cui vivevano i genitori. Il padre era sempre a lavoro a gestire la sua azienda, guadagnava molti soldi ma non era quasi mai presente a casa e quando c'era diceva a Manuel di studiare e impegnarsi che prima o poi sarebbe toccato a lui prendere in mano l'azienda. La madre era della stessa opinione. Stai lontano dalla mentalità delle persone deboli, quelle che preferiscono divertirsi tutto il giorno senza pensare al loro futuro. Tipo quel tuo amico che porti qua a volte. Non farti coinvolgere troppo da lui o almeno non farti trascinare in cose stupide. Tu hai una grande responsabilità sulle spalle, mandare avanti la nostra eredità. Manuel perciò sentiva grandi pressioni addosso e piano piano si allontanava sempre di più dalla realtà. La tata era l'unica persona a dirgli cose un po' diverse. Non preoccuparti troppo dei soldi. Sono importanti, è vero, ma ci arriverai quando sarai grande. Ora hai soltanto 12 anni, devi divertirti qualche volta, ok? Non c'è bisogno di portare per forza tutto il peso del mondo sulle tue spalle a un'età simile, ma anche in futuro ricordati che il mondo non è sorretto solo da una persona. Tu a volte puoi anche riposarti e goderti una tazza di latte caldo con me. Il sorriso della tata era l'unica luce nella sua vita. L'unica persona veramente accanto era lei, ma ahimè un giorno quella luce si spense. A quanto pare il padre aveva sentito i discorsi che faceva al suo figlio e per questo motivo aveva deciso di licenziare per sempre la tata. Non puoi dire quelle sciocchezze a mio figlio, lui dovrà gestire la mia azienda e tu li stai mettendo in testa delle cose da poveri. Con quella frase la licenziò. Da lì Manuel divenne sempre più spento e sempre più silenzioso e per sé anche ogni singolo amico che aveva. La sua vita era soltanto studio e scuola. Gli anni passarono e Manuel riuscì bene sia nello studio che nello sport, guadagnandosi la stima di insegnanti e compagni. Ma era ancora nei libri che trovava le sue più grandi avventure, specialmente quelli che parlavano di psicologia e medicina. Quando arrivò il momento di scegliere la facoltà universitaria, nonostante le aspettative dei suoi genitori, Manuel optò per medicina, spinto da un desiderio di capire e aiutare gli altri a livello più personale. In realtà non si era quindi spento del tutto, semplicemente aveva smesso di mostrare la sua felicità davanti ai genitori. Lui non voleva dirigere l'azienda di famiglia, voleva diventare un medico e lavorare per conto suo, ma scopriremo che non è così facile togliersi dalla testa le parole di un genitore che ti ha indottrinato per anni. All'università Manuel incontrò Nuria durante una lezione di letteratura comparata, un corso che aveva scelto per allargare i suoi orizzonti culturali. Nuria, con i suoi occhi vivaci e la passione per la poesia, catturò subito l'attenzione di Manuel. Dopo la lezione si avvicinò a lei con un pretesto per iniziare una conversazione. Scusa, non ho potuto fare a meno di notare il tuo commento su L'infinito di Leopardi, è uno dei miei poemi preferiti. Credi davvero che il desiderio di infinito sia una condanna per l'essere umano. Nuria, sorpresa e intrigata dalla domanda, rispose con entusiasmo e da quel momento in poi i due divennero inseparabili. Passavano le notte a discutere di letteratura, arte e filosofia, scoprendo insieme la bellezza delle parole e dei sentimenti. È durante questi anni che Manuel scoprì la sua predisposizione per la chirurgia. Durante un tirocinio si trovò per la prima volta in sala operatoria. Le semani non trovavano come quelle degli altri. La sua mente era chiara e il suo cuore forte. In quel momento sapeva che il suo destino era appena cambiato. Intanto il padre provava a convincerlo a prendere in mano l'azienda, ma niente da fare. Quella a Manuel non interessava più. Così il genitore infine compì un ultimo atto orribile verso di lui. Vattene da casa mia, saprai mantenerti anche da solo, no? Con il tuo lavoro da medico. Dopo la Laura venne cacciato da casa e passò molto tempo a casa di Nuria. I genitori di quest'ultima si dimostrarono molto gentili con lui e provò per la prima volta affetto familiare. La famiglia di Nuria era la tipica famiglia che lui vedeva solo nei film. Mangiavano insieme, si raccontavano la loro giornata e spesso uscivano a fare compere insieme e Nuria amava stare con loro. In quei mesi a casa loro imparò che la vita non era fatta soltanto di lavoro e studio, ma le parole del padre erano dure da togliere dalla testa e, ottenuto il suo primo lavoro come chirurgo, decise di diventare il migliore a tutti i costi. Non importava cosa avrebbe dovuto sacrificare. Questa era una cosa che gli aveva insegnato il padre, che non riusciva ancora a levarsi dalla testa. Era dura contrastare così tanti pensieri dopo tutto. A volte nemmeno si rendeva conto di quello che faceva pur di eccellere in qualcosa. Nella coppia però non era tutto rose e fiori. A quanto pare Nuria non poteva avere bambini e così suggerì di adottarne qualcuno, ovviamente quando sarebbero andati ad abitare da soli. Quindi dopo qualche mese finalmente riuscirono ad andare ad abitare appunto da soli da qualche parte. Si sposarono in una cerimonia intima, circondati da libri e poesie. La loro vita sembrava procedere per un verso molto luminoso, ma il desiderio di avere una famiglia si scontrò con questa dura realtà. Dopo vari tentativi ancora non riuscivano proprio ad avere figli biologici. Manuel fu il primo a proporre l'adozione e poi anche Nuria cercò di accettare quest'idea. Una sera, mentre la pioggia batteva contro i vetri della loro piccola casa, Manuel decise di affrontare l'argomento con dolcezza, perché all'inizio non era andata tanto bene. Nuria, capisco che l'idea di adottare un bambino possa sembrare un'idea strana all'inizio, ma pensa a tutto l'amore che possiamo dare. E possiamo anche cambiare così una vita, non sarebbe meraviglioso? Nuria con gli occhi lucidi annoì lentamente. Ma sì, hai ragione Manuel, forse è il momento di aprire il nostro cuore a nuove possibilità. Dopo mesi di attese e burocrazia, adottarono così Sara, una bambina di quattro anni con grandi occhi curiosi e un sorriso che illuminava ogni stanza. Manuel si legò subito a Sara, ma per Nuria accettare pienamente la bambina come propria figlia si rivelò più difficile del previsto. La difficoltà di Nuria di accettare Sara come propria figlia creò una frattura nel matrimonio. Manuel cercò di mediare, di costruire un ponte tra Nuria e Sara, ma il cuore di Nuria sembrava chiuso e anzi si stava allontanando da tutti, anche da Manuel. Parlava sempre meno e si chiudeva sempre di più. Anzi, a volte non era neanche presente a casa per ore e ore. Infine, una mattina, trovò una lettera a Manuel. A quanto pare Nuria era partita, incapace di sopportare la situazione. Era scappata via. Manuel devastato, ma con la presenza di Sara al suo fianco, cercò di farsi forza, di andare avanti. Si dedicò così a lei, cercando di compensare l'assenza della madre. I loro legami, quindi, si rafforzarono. E Manuel imparò a trovare un equilibrio tra il suo ruolo di padre e quello di chirurgo, o almeno era quello che pensava. In realtà la sua vita era diventata un turbine di operazioni, visite e turni di notte. Voleva diventare a tutti i costi il migliore e guadagnare sempre di più. Una cosa che le diceva spesso suo padre è che lui aveva cercato di togliere dalla testa, ma era veramente difficile. Sara crebbe e ogni giorno sembrò portare nuove sfide e gioie. Tuttavia il lavoro di Manuel, come detto, stava iniziando a pesare veramente tanto sul loro rapporto e lui neanche se ne accorgeva. Un evento cruciale, poi, stava per mettere alla prova la loro relazione, cioè la recita scolastica di Sara. «Prometti che ci sarai, papà?» chiese Sara, con i suoi occhi pieni di speranza. «Te lo prometto, tesoro. Non lo perderei per nulla al mondo», rispose Manuel, ignaro delle sfide che il destino aveva in serbo per lui. Il giorno della recita, Manuel si ricordava ancora della recita di Sara e della promessa fatta, ma a quanto pare non poteva proprio andare. Doveva operare una persona molto importante in ospedale e, se fosse riuscito bene in questa operazione, l'avrebbero promosso. Quindi un'occasione così non poteva di sicuro ripetersi di nuovo. Manuel pensò molto a cosa fare la mattinata appena è iniziato il turno di lavoro e, infine, decise di mandare un'infermiera. Un'infermiera che conosceva bene e che stava per finire in turno. «Ti prego, vai tu al posto mio. Ti darò anche dei soldi. L'importante è che riesci a filmare tutto quanto, così io potrò guardare il filmato e andare da mia figlia e dirle che c'ero e che magari lei non mi aveva visto». L'infermiera era un po' stranita, ma aveva bisogno di soldi. Per questo motivo decise di accettare. Tornò infine con il filmato. Riuscì a prendere tutto quanto. Lo mandò direttamente a Manuel, ma a quanto pare Sara l'aveva notato, aveva notato che lui non c'era. Quando tornò a casa la trovò sveglia, seduta sul divano, con il volto triste, con la tata che stava per andare via. «Papà, mi hai promesso, mi avevi promesso», disse Sara, con una delusione evidente nella sua voce. «Ma è certo che c'ero. Ho visto, sai, ho filmato. Anzi, guarda, ecco il filmato. Papà, non ti credo. Io ti ho cercato dappertutto. Alla fine sono anche scesa dal palco per vedere doveri. Questo filmato sono sicuro che non l'hai fatto tu». Manuel si rese conto del dolore che aveva causato, vedendo la tristezza negli occhi di sua figlia. In quel momento capì che nessun successo professionale poteva compensare il tempo perso con lei. Fu un momento breve, lei infatti se ne andò subito nella sua stanza piangendo, ma quel breve momento gli cambiò completamente la vita. Nei giorni successivi alla recita mancata, l'atmosfera in casa di Manuel e Sara era cambiata. Manuel si rese conto dell'errore commesso e decise di dedicare più tempo alla sua bambina, cercando di compensare la sua assenza. Una sera, mentre preparavano la cena insieme, Manuel ruppe il silenzio che si era creato tra di loro. «Sara, mi dispiace tantissimo per l'altro giorno. So che ti ho promesso di essere lì per te». «E non ho mantenuto quella promessa», iniziò Manuel guardandona negli occhi. Sara, mescolando la pasta nel pentolino, si fermò e lo guardò. «Papà, mi hai fatto davvero tanta tristezza. Pensavo che la mia recita fosse importante anche per te». «Sara, la tua recita era la cosa più importante per me quel giorno e voglio che tu sappia che farò di tutto per non perdere mai più un tuo momento speciale», disse Manuel, mettendo da parte il suo orgoglio. «Prometti?», chiese Sara, con una speranza cauta nella sua voce. «Te lo prometto, è per dimostrartelo, perché non scegliamo un qualcosa insieme da fare per questo weekend. Qualsiasi cosa tu voglia», propose Manuel, sperando di riconquistare la fiducia di sua figlia. Sara sorrise, illuminando la stanza con la sua gioia. «Potremmo andare al parco divertimenti, non ci sono mai stata, quello nuovo». «Va bene, andremo al parco divertimenti, quello nuovo», confermò Manuel, felice di vedere il sorriso tornare sul volto di Sara. La giornata al parco fu veramente splendida, Sara si divertì come non mai e infine Manuel fece un piccolo discorso. «Sara, tu sei la cosa più importante nella mia vita e mi dispiace di non avertelo fatto sentire prima». Dopodiché l'abbracciò e tornarono a casa. Manuel e Sara crebbero quindi insieme, imparando l'uno dall'altro in realtà. Manuel scoprì il mondo attraverso gli occhi di sua figlia, finalmente, mentre Sara imparò il valore del tempo, dell'amore e della dedizione. Il loro weekend, adesso sono pieni di avventure, dalla cucina esperimentale in casa alla scoperta di nuovi parchi in città. Manuel parla spesso di questa esperienza vissuta, di questa lezione imparata. La famiglia sicuramente è molto, molto importante e questo lui ha impiegato un po' a capirlo. Dopo la perdita di sua moglie pensava che non ci sarebbe stato più nient'altro e che avrebbe faticato a prendersi cura di sua figlia, ma non era così. L'unico problema era che lavorava troppo, dimenticando anche la sua famiglia rimasta. Per questo motivo, dice sempre alle persone, pensate prima di fare qualsiasi cosa quando si tratta di figli o comunque di famiglia, perché loro vengono prima di qualsiasi cosa.